Nel passato la Via Lattea ha sempre suggerito ai popoli del passato l'idea che qualcosa fosse stato sparso nel cielo. Addirittura diversi popoli credevano che in quella porzione di cielo fosse stato sparso della farina, sabbia bianca, polvere d'argento, addirittura polvere di ghiaccio e grani di sale. I greci pensavano invece che la Via Lattea fosse Latte, e la prima espressione utilizzata era Togala Oranion, ossia il latte celeste. Successivamente fu utilizzato il termine Galactos Chiclus, cioè circolo galattico ed infine fu usato il termine Galaxias, che viene tradotto come Lattiginosa. Il mondo latino considerava la Via Lattea come la strada che gli dei percorrevano per recarsi al palazzo di Zeus. Lungo questa strada si trovano le dimore degli dei più importanti. In riferimento al termine, Latte, si sviluppano i vari miti del passato, tra i quali il più famoso è quello di Era, alla quale, mentre dorme, viene dato da lattare il piccolo Eracle per renderlo immortale per il fatto che Eracle era figlio illegittimo di Zeus e quindi di una donna mortale. Il neonato Eracle succhiava latte con molto ardore a tal punto da far svegliare la Dea, che respinse il piccolo. Il latte che spruzzò dal suo seno si sparse nel cielo dando luogo alla Via Lattea, mentre il latte che cadde sulla Terra diere origine ai gigli. Altro mito importante è quello legato a Saturno e a sua moglie Ops. La moglie di Saturno andò a partorire suo figlio Zeus sull'isola di Creta, per non farlo divorare da Saturno, il quale divorava tutti i suoi figli in quanto gli era stato predetto che uno di essi gli avrebbe tolto il potere. Al ritorno dall'isola di Creta porse a Saturno una pietra avvolta in fasce, e prima di divorarla Saturno accostò la pietra al seno di Ops procurando la fuoriscita del latte che generò la Via Lattea. Gli indiani d'America invece, credevano che la Via Lattea fosse la lunga via che le anime percorrevano dopo la morte.